Il corso La Comunicazione Interpersonale, strumenti per gestire al meglio le relazioni, offre un'opportunità unica per migliorare le proprie competenze comunicative, indispensabili in contesti organizzativi. Attraverso consigli pratici e l'approfondimento delle tecniche di comunicazione assertiva, i partecipanti impareranno a ridurre incomprensioni ed errori, migliorando la gestione delle relazioni. Inoltre, l'identificazione del proprio stile comunicativo permetterà di affrontare con maggiore chiarezza e serenità situazioni di frizione, favorendo una comunicazione più efficace e fluida all'interno dell'azienda. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi rigenti.